Oggi vorrei che fossi tu a rispondere ad una mia domanda. Secondo te, per quale motivo non mettono un limitatore di velocità alle nostre auto? E vi pongo questa domanda perché io non riesco a darmi una risposta certa e me la sono posta ancora una volta questa domanda dopo aver letto le decine e decine di notizie di morti bianche sulle nostre strade in questo weekend. La mia comunità in questi ultimi tre giorni è stata scossa dalla perdita di quattro giovani vite in quattro incidenti stradali diversi. Le cause erano molteplici ma una su tutte era comune, l'alta velocità. Senza voler fare il bacchettone in auto e il piede sull'acceleratore lo schiacciamo tutti e continueremo a farlo. Difficilmente questo tipo di notizie ci scuote davvero nel profondo talmente tanto da farci rallentare le andature. Allora perché non imporlo in modo tecnico e non solo normativo? Davvero non si venderebbero più auto di grossa cilindrata? Davvero il mercato delle auto verrebbe distrutto da questo? Io non ho una risposta naturalmente e mi piacerebbe avere un quadro più ampio un ventaglio di opzioni per farmi un'idea più accurata e penso che con il tuo aiuto, il tuo modo di vedere le cose potrei riuscire a farmene una. Ti ringrazio in anticipo per il tuo contributo al quale magari risponderò anche con un video. Quindi a te la parola.